Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi visita una papera gigante e un ombrello gigante in un unico match. Un modo velocissimo per farlo ragazzi è scendere proprio all'ombrello quello dietro l'ande letali. Questo qua ragazzi perché? Perché una volta che sarete saliti su quell'ombrello vi basterà semplicemente prendere il primo drift board che vi capita e ce ne sono un sacco dove avete appena visto vicino al al camper e alla macchina e quindi ragazzi proseguire molto molto semplicemente tutto il percorso del fiume fino a raggiungere il prima possibile la papera gigante quindi ragazzi anche oggi una sfida davvero super super rapida io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi piacerebbe trovare la papera gigante prima di salutarvi eccola qua mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo domani mattina in live e più tardi con l'unboxing ciao 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 ciao